Il fatto dello spopolamento ormai è un processo che va avanti da 30-40 anni, non è che è iniziato col sisma. Certo, quello l'ha accentuato, però il processo era antecedente. Noi come amministrazione crediamo molto nel turismo e quindi specificatamente in questo sito dove vengono riportate, ripeto, tutte le nostre infrastrutture che piano piano iniziano a prendere forma. L'anno scorso per esempio è ripartito un noto ristorante, l'ex Tecla, il Pagliaio. Adesso è una gestione di persone, proprio del luogo, di Pagliaroli. Così come, ripetevo, l'ostello di Padula che ha trovato finalmente un gestore dopo 20 anni, 25 forse, e proprio ieri ha firmato il suo contratto di affidamento. Crediamo in questo rilancio del territorio e sono convinto che il Comune di Cortino, ma così anche tutti i comuni dell'entroterra, possono ritrovare una certa floridità, insomma. Cosa si potrà trovare su questo sito? Andiamo un po', spaziamo, ripeto, dall'infrastruttura, dalla parte enogastronomica, ma anche le bernezze del territorio, tutte le località, le escursioni, insomma un sito a 360 gradi.